Ora, vediamo un po' come sistemare qui la faccenda, le cose, Alex, ok. Sono qui da tanto che hanno finito i proiettili. Ah, che hanno finito, ah ok, non avevo capito con cui ce l'hanno visto. Io, tu sei vivo sicuro. Guardatelo qua. Anche questo qui di fianco, secondo me, però... Sono più preoccupato per quello l'hai. Grazie mille! Oh, le mine! Piano, pianissimo. Mia! Eccomi qua! Merda, merda! Ah, questo non posso sparare! No, non gli fa niente. Oh! Questo... ha preso fuoco. Vediamo se c'è qualcos'altro. Niente. Com'era la torcia! Maledizione! Oh! Non vedo niente. Manco io. Senza la torcia non vedo un tubo. Ce l'ho qui io! Mio. Dobbiamo passare per quella porta. Prego, tutta tua. Diamino, una serratura elettrica. Come facciamo ad aprirla? Vediamo se troviamo la scatola elettrica. Perfetto! Allora, scatola elettrica. Ehi, ma presa Dani! Ho sentito che te ne intendi. Il dottor Kleiner dice che quando si chiudeva fuori dall'ufficio, tu e Barney facevate a gare a chi riusciva a entrare per primo senso a usare la chiave. Sono serio? Facevo ciò? Adesso mi salta fuori qualcosa. Bello! Allora, qui si cade. E non mi pare proprio il caso. Di sicuro mi salta fuori qualcosa. Qui qualche... Qualche pezzettino di cacca. Ehi! Alex, la pistola ce l'hai tu, eh? Alex? Faggolo, Alex! Merda, merda, merda. Merda, merda. Io non ho armi, non ho... Che dia... Ah no, c'è solo questo, c'è solo questo. Ma scusa, se quello è vivo perché l'ho spostato? Io l'ammazzo. L'unica cosa che posso fare. È morto, perfetto. Qui di sicuro dovrei entrare. Eh! Niente da fare. Mia! Oh! Ok. Pistola. Olè. Non ho toccato nulla. Ehi, hai trovato una pistola? E' un fucile. Con pochi colpi. E' un barattolo di vernice. Ma già, è vero, qua si poteva mica verniciare? Sbaglio? Ah! Cacchio. Scusa, un secondo. Guarda un po'. Oh, esplodi, cacchio! No! Peggio ancora. Alex, bravissimo. Ok, quello lì è morto. Qui? Io farei sparare a te perché... E' un'unica... Guarda cosa possiamo fare. Un po' di luce. Grazie mille. Ma il contrario della torcia umana è la torcia zombie. Questo è chiaramente inciampato per via della scatola. E' morto. Va là. Se ti tiri su, mi incazzo. Che diavolo è quello? Un combine zombie? Insomma, è un... Zombain. Eh? Brava. Zombain, l'hai capita? Ok. Grazie. Cavolo. Attento, ho una granata! Puttana! Qua Isis, proprio levati. Prego, signorina. Niente da fare qui? Perché siamo venuti qui? Perché si va di là. Giustamente. Oh, deficiente! E allora, vedi che bastavano i calci. Invece che farmi... Finire tutte le munizioni. Voglio tirare anche io qualche pedazzo. Tu sei vivo? No, morto. Tutti vivi! Cioè io ti ho sparato e sei... Ma po'... Ma che salta per aria? Bravissimo! Non è che salvataggio da dietro. A pelo d'orecchio. Dobbiamo dire al dottor Kleiner di trovare una nuova batteria per con la torcia. Sì, concordo. Da fastidio, eh? Facciamo così. Ma porto. Che è successo? Oh, lecce! Le luce fu! Ma perché utilizziamo le armi noi? Scusami, eh? Una domanda semplice, semplice. Io pirla che sto qui a consumare le armi. Prego, prego, prego. Vadi, vadi. Si sa mai. Ah, ecco qua. Io che cercavo una via di là. Alleluia. Superficie. 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 Puttana! Un cordo! Vediamo un po' cosa deve esplodere adesso, ne? Superficie. Superficie. MA PORCA PUTTANA Ho capito ho capito ho capito ho capito Ok adesso c'è una cosa schifosa Wow non pensiamo che saresti riuscita a bloccare il cunicolo così No No Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno